La pubblicità in rete è in forte espansione, approfittani! Entra anche tu con Radio Stap, chiama il numero 340-7559-392 Siamo ritornati al passato per inventare la comunicazione del futuro. Radio Stap, l'esperienza di ieri nei multimediali di oggi. Radio Stap, l'unica. La scelta vincente. La pubblicità in rete è in forte espansione, approfittani! Entra anche tu con Radio Stap, chiama il numero 340-7559-392 Siamo ritornati al passato per inventare la comunicazione del futuro. Radio Stap, l'esperienza di ieri nei multimediali di oggi. Radio Stap, l'unica. La scelta vincente. Bar Gelateria L'incontro a Roma, in Viale Agosta 37. Il contatto telefonico è lo 0669348420. Ricordate, Bar L'incontro, dove in ogni momento un incontro diventa una magia. Tutto questo in Viale Agosta 37 allo 0669348420. La pubblicità in rete è in forte espansione. Approfittani! Entra anche tu con Radio Stap. Chiama il numero 340-7559-392. E allora approfitta della pubblicità su Stap Radio. Mi raccomando, hai sentito il contatto telefonico della nostra agenzia pubblicitaria. E naturalmente ritorna indietro su questo file per prendere con carta e pena o con qualsiasi altro strumento il contatto telefonico. Passiamo alla partita. È il post Roma-Bologna. Roma 3-Bologna 0. L'eroe della serata, naturalmente, Mohamed Salah. E naturalmente noi accettiamo tutti i vostri giudizi in chat che ci saranno da questo istante in poi e poi li leggeremo nel corso della settimana. Per il momento invece ci colleghiamo con gli amici di Audio Sport News, esattamente con Flavio Maria Tassotti, per il risultato, il tabellino finale e un brevissimo commento proprio su Roma 3-Bologna 0. La linea va ad Audio Sport News. Termina la partita all'Olimpico. La Roma vince 3-0 contro il Bologna. Jingle Spot Motogomme donati dal 1970 al leader nella vendita, montaggio, controllo dei pneumatici per moto e scooter. È finita 3-0 la gara tra Roma e Bologna. I giallorossi quindi vincono anche questa volta all'Olimpico e mantengono il passo della Juventus. Distante ancora 4 punti. I giallorossi salgono così a 26 lunghezze in classifica e mantengono il secondo. posto in solitaria. Ammattatore dell'incontro questa sera Mohamed Salah, autore sicuramente di due gol e del primo gol grazie alla complicità di Adam Masina. Motogomme donati dal 1970 al leader nella vendita, montaggio, controllo dei pneumatici per moto e scooter. Pirelli, Metzler, Dunlop, Bridgestone, Michelin, gomme slick, mescola, strada, enduro o scooter specializzati in Harley Davidson. Da noi troverai in anteprima tutti i nuovi modelli di pneumatici moto a prezzi incredibili, con montaggio in tempi rapidissimi. Motogomme donati, unico punto a Roma, Pirelli Ride Passion.